Sei barzellette divertenti. Un genovese ad un altro. Scusa, mi presteresti 10 euro? Mi dispiace ma non li ho qui con me. E a casa? Tutti bene grazie. Come si chiama il più forte tuffatore spagnolo? Casco de panza. Mamma come sono nata io? Ti ha portato la cicogna? E l'ha trombata il papà? La maestra interroga Pierino. Pierino, fammi un esempio di frase fatta. Io mi drogo, tu ti droghi, e lì si droga. Qual è il colmo per un tennista? Essere in tribunale e luttare per i propri diritti. Mi han sequestrato la casa. Adesso si che è una proprietà privata.